quando sei sotto sforzo il tuo deodorante dimostra la sua efficacia Deovit E il primo con vitamina E agisce solo sulla parte cattiva del sudore il suo cattivo odore Deovit E lo specifico di idim che rispetta il naturale equilibrio del tuo corpo e ti deodora a lungo in ogni occasione Deovit E fine del problema